Buonasera a tutti. Allora, sabato mattino sono andata in palestra, come avevo promesso, e praticamente sono andata tutta dolorante, ma non importa, mi aspettavo anche peggio, devo dire. Abbiamo ballato un po', ho conosciuto anche due nuove amiche che sono bravissime, una che si chiama Catalina e l'altra Daniela. Bravissime, anche molto gentili tra l'altro, e nulla, praticamente poi avevamo pranzato e ho deciso di rilassarmi un po', stavo giocando al computer a Pizzermon, fin quando, è da un po' che ci stavamo pensando, volevo rigiocare a Pokémon Luna e Pokémon Super Luna, sì, perché io ho sia la luna potenziata che quella normale, e io, dato che è da un po' che volevo farlo, l'ho ricominciato, l'ho provato a ricominciare verso, mi pare, domenica, adesso non mi ricordo. Vabbè, adesso io vi saluto e ci vediamo tra poco con il video di domenica. Ciao!